Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me imbastisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Questo Salmo è tra i più conosciuti e commentati. Ogni volta però scopriamo che ha sempre qualche cosa di nuovo da dirci. Il Salmo 23 di Davide dichiara la sua totale dipendenza dal Signore, proprio come una pecora dipende dal suo pastore. È incoraggiante sapere che Dio è accanto a noi in ogni istante anche nei momenti più difficili e bui della nostra vita. Il Signore ci conduce per sentieri di giustizia. Essere condotti in un sentiero presuppone che camminiamo. Il nostro pastore conosce i pericoli e le difficoltà del nostro cammino. È lui che ci guarda. Non delega questo compito a nessun altro. Questo Salmo ci fa pensare alla parabola che troviamo al capitolo 15 di Luca. Chi di voi, avendo cento pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va a quella perduta finché non la ritrova. È trovata tutto allegro se la mette sulle spalle. È giunto a casa chiama i suoi amici e vicini e dice loro rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. È meraviglioso leggere che il pastore si preoccupa di ogni singola pecora e il nostro pastore è disposto a venire a cercarci quando ci perdiamo. Per Davide la parola di Dio non solo è la strada giusta da seguire, ma è anche un piacere, non un obbligo a osservare la legge, ma un desiderio. Davide ha raggiunto uno splendido rapporto con la parola di Dio e quindi con Dio stesso, perché ha camminato secondo la legge del Signore. camminare vuol dire vivere secondo la legge, vuol dire all'interno della legge, che non è solo una stella che ci guida, una lampada che illumina la nostra strada, ma è uno stile di vita. Ma come ha fatto il cammista a raggiungere questo rapporto con Dio? Si è fidato, ha avuto fiducia nelle promesse che il Signore gli ha fatto e nella fiducia ha percorso questo cammino. È riuscito a conoscere Dio giorno per giorno sempre di più e questa conoscenza lo ha portato a mettere Dio al di sopra di tutto e di tutti. Davide ci ricorda di affidare la nostra vita, il nostro cammino al Signore, a non voler procedere da soli, a lasciarci guidare dal Signore come le pecore seguono e ascoltano la voce del loro pastore. Buona giornata!